Ecco tutto lo staff, quasi tutta una parte della festa del pesce, al lavoro, tutto pronto per domani, ecco Paolo, anche con la schiena a pezzi siamo venuti, buon lavoro, tutti pronti per domani mattina, per ricominciare a lavorare, domani sera la festa, buon lavoro! Diamo uno sguardo al palco che stanno realizzando, ringraziamo i fratelli Garsi che ci hanno accompagnato in questa avventura, altrimenti non avremmo potuto riprendere per le condizioni in cui l'operatore si trova, ecco qualcuno che sta godendo questo scambolo d'estate, oggi è un bellissimo giornale, il mare è stupendo, ma si scoglie il navigo, ma si scoglie l'infanzia, e qua è tutto pronto per la festa di domani sera, si annuncia una giornata bellissima, abbiamo un ultimo sguardo al palco, i lavoratori che stanno lì alle prese con il palco, tra e lo stabilimento dei grassi di Tertinando, ma ci sono anche altre strutture lì sotto da Pupetto, come potete vedere, questa è già completata, e lì si sta realizzando il palco per lo spettacolo, che vedrà delle donne, le ninfe della Tamurra, ci saranno a divertirsi ragazzi, qua ancora stanno caricando, vediamo la famiglia Mantellini, vediamo altri, e tutti quanti gli stabilimenti a collaborare, a lavorare, complimenti, il video è un po' così, però per far rendere l'idea di cosa ci sarà domani, allora domani, grazie, guardate che tramonto, spettacolare, domani a Formillo per la festa del pesce, ma è forse da me, guardate!